salve ragazze andiamo a vedere se ci saranno novità in amore per voi vediamo che novità ci saranno per voi in amore beh un asso di spade qualcosa c'è magari un incontro sessuale perché no con un due di spade ma diciamo un chiarimento ci sarà intanto con una persona con cui vi ha dato proprio tanto tanto filo da torcere questa persona è quindi che novità ci saranno in amore ma che probabilmente con una persona del vostro passato ci sarà una possibile riappacificazione una persona che vi ha lasciato al freddo che si è allontanata in questo momento dalla vostra vita e che in qualche modo vedete vuole con piccoli passi ricominciare c'è un cambiamento di posizione e quindi cosa vuole vuole venire verso di voi perché si è scoperto innamorato